Giovanna Cantoni è la Presidente di Magia di Punti ed è grazie a questa associazione che possiamo vivere sul filo dei ricordi perché questo è il titolo della mostra qui a Villa Faravelli, tanti ricami ma con un legame alla storia della nostra città a un marchio come quello della Sasso che è ancora nel cuore non solo economico ma anche un po' così dei ricordi imperiesi. Certo, questa mostra è stata voluta proprio per ricordare Mario Novaro, per ricordare la Sasso da quale noi abbiamo preso spunto tutte le cose che voi vedete per esempio le lattine piuttosto che quel bellissimo pannello che c'era dietro oppure queste cose qua noi abbiamo riprodotto fedelmente spero bene, abbiamo riprodotto agenda, abbiamo riprodotto tipo una bottiglia a portaolio abbiamo riprodotto delle americane, abbiamo riprodotto insomma di tutto di più in questa mostra, un cuscino come potete ben vedere là il cuscino dell'olio Sasso, abbiamo riprodotto tutto quello che era riproducibile secondo la nostra idea, secondo il nostro gusto e crediamo così in modo anche un po' presuntuoso che sia veramente venuta una cosa decisamente valida. Tanto lavoro, tanto impegno, tanta passione. soprattutto tanta passione che noi dedichiamo a questa associazione ormai da 15 anni ogni due anni facciamo la nostra biennale e ogni volta un tema diverso e ogni volta ricami completamente diversi sempre con un tema e mai con il ricame fino a se stesso con dei collaboratori preziosi quale la signora Milena Castellari che insieme a me ha fondato questa associazione 15 anni fa insieme alla nostra tesoriera e public relation molto importante che è la signora Anna Bonavera Maria Novaro della fondazione, Maria Novaro, presidente della fondazione e fondatrice ecco, qui si gioca veramente in casa perché tutto ci parla di Sasso, ci parla di una tradizione strettamente legata a Imperia anche se oggi ahimè non è più così certo, perché io sono, quando mi chiedono dove sono nata, io dico io sono nata a Oneglia addirittura perché esisteva già Imperia all'epoca però la nostra famiglia era di Oneglia quando ancora c'era questo antagonismo fra Oneglia e Porto Maurizio Mario Novaro era mio nonno il quale è andato a studiare, lui faceva, era uno dei quattro figli del Agostino, fondatore della Sasso, no? Però, fondatore della Sasso però già all'epoca molto riverente verso il mondo femminile perché l'ha ditta, l'ha intestata e nessuno ci fa caso a questa cosa, l'ha intestata a sua moglie Paolina Sasso, che infatti ci si chiede sempre ma come mai Sasso, no? Olio Sasso, ma era la sua moglie che si chiamava Sasso infatti la ditta era P. Sasso, Paolina Sasso e figli Assessore Sara Serafini, un evento che possiamo dire nasce proprio nel posto giusto qui in questa villa Faravelli che sembra fatta apposta per accogliere queste testimonianze di uno stile Liberty, di un passato imperiese comunque ancora nel cuore di molti Sì, questa era l'idea, proprio cercare di addobbare questa villa che è comunque uno dei posti più belli della città anche vicino al comune tra Porto Maurizio e Oniglia attraverso l'utilizzo appunto della maestria dell'associazione Magie di Punti assieme alla fondazione Novaro che ha messo a disposizione diciamo un repertorio iconografico attraverso il quale poi Magie di Punti ha ricamato ha creato tutte queste manifestazioni artistiche che io oggi vedo per la prima volta non ho visto l'allestimento apposta per non rovinarmi la sorpresa e l'idea era proprio questa, di creare una sinergia tra due enti di riferimento che lavorano entrambi per la cultura E quindi insomma un'altra occasione anche per riscoprire Villa Faravelli per avere un evento in città Sì, probabilmente faremo una mostra quest'estate e poi speriamo di poter presto allestire la collezione Invernizi che il comune di Imperia ha ereditato quest'inverno e per il quale in passato prima il sindaco Sappa e poi il sindaco Strescino si sono molto adoperati per poterla esporre appunto completamente in Villa Faravelli Grazie! 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 Grazie!